Rush, Mascirea recupera e rilancia lungo Cabrini, riprende però ancora Neil. Nel finale sta prendendo consistenza la squadra inglese. Vediamo adesso Platini, lancio per Briaschi, scatto di Briaschi, poi di Boniek, Boniek, Boniek e gol. Contropiede iniziato da Briaschi ma poi concluso da Boniek. Quarantesimo del primo tempo, la Juventus in vantaggio con Boniek. Ecco, rivediamo il gol di Boniek che porta a compimento un contropiede lanciato da Platini, continuato da Briaschi e realizzato da Boniek. Ecco, rivediamo ancora da altra angolazione, il regista Tomasecchi ci ha fatto vedere questo gol da tutte le parti. E' il gol che schioda il risultato e porta in vantaggio la Juventus al quarantesimo del primo tempo. D'altra parte per il Liverpool adesso non c'è altro da fare che gettarsi in avanti e cercare di riacciuffare il risultato. Ecco, un attacco di Briaschi. C'è Rossi al centro dell'area. Briaschi, cross di Briaschi ed è il raddoppio di Boniek. Boniek, al volo Boniek su cross di Briaschi. Doppietta di Boniek, è il trentaquattresimo. Ecco, avete visto sul cross di Briaschi preciso il tocco di piatto interno sinistro di Boniek. Ecco, rivediamo ancora. Ecco il cross di Briaschi. Vedete Boniek che mira l'angolino imprendibile il pallone per Grobela. Trentaquattresimo del secondo tempo. Due a zero per la Juventus. Grazie a tutti.